Il sogno degli Spallini è vedere la propria squadra, quindi la SPAL in Serie A, la squadra che mi è rimasta nel cuore ovviamente è quella di quest'anno perché è quella che ho giocato in Serie A e sarebbe un po' troppo banale dire, fare questa scelta. Pertanto io dico la SPAL 2004-2005, una delle prime SPAL delle quali io conservo un ricordo lucido, la SPAL di Massimiliano Allegri, mi ricordo abbastanza bene Piero Bon, Pirri, Milana, che si vedono qui in foto, ho un ricordo addirittura di un McDonald's, le quali ero tutta la mia famiglia, io ero abbastanza piccolo, mi ricordo di Piero Bon e di Milana in particolare che mi hanno firmato un autografo che io conservo ancora gelosamente, quindi sicuramente è questo il ricordo che mi lega alla SPAL perché mio padre mi ha portato allo stadio per la prima volta, probabilmente in una partita di questa stagione, quindi non posso chiedere questo.